Ehi Samu, ciao ciao, senti un po', ma queste magliette qua ce l'hai? Ah no, ma questa è falsa, ci sono sbagliati, però queste sono originali, secondo me quasi staresti molto bene insieme a noi. Ciao Samu, so quel che fai, Carlo Alberto mi ha raccontato, continua così e non smettere mai, perché questo ricordo mi ha tenuto per il futuro, per i prossimi millenni, un abbraccio a tutti quelli che ci seguono. Samu, sei un grande, io ti seguo, sei veramente, solo tu puoi aver pensato e aver la passione per conservare tutto quello che tu ti cimeli, anzi, prometto che qualcosa ti mando se è avanzato qualcosa, un saluto. Ciao Samuele, grazie intanto per questa enorme pazienza e voglia di tenere ancora vivo un ricordo meraviglioso come gli anni della Maxi Cono, quindi un in bocca al lupo, non mollare e spero anche di incontrarti al più presto, in bocca al lupo e grazie di tutto.